Ci troviamo nel Palazzo Comunale di Cariati con il dottor Antonio Repucci, commissario prefettizio per un breve periodo qui a Cariati. Buonasera dottor Repucci e grazie per l'ospitalità. È stato ospitale nell'accoglierci nel momento in cui lei è venuta a Cariati. Abbiamo chiesto di incontrarci per farla conoscere alla cittadinanza, altrettanto ospitale disponibile per questo incontro, per un saluto ai cittadini cariatesi perché lei a breve finirà il suo mandato. Ci saranno le elezioni, per cui è giusto che i cittadini ascoltino anche il suo saluto e ascoltino anche un pochettino quella che è stata l'azione amministrativa, chiamiamola, in questo periodo. Ecco, chiedo, com'è stato il soggiorno qui a Cariati in questo breve lasso di tempo dal punto di vista dell'ospitalità? La ringrazio perché mi dà l'occasione di dialogare con la città a conclusione quasi del mandato che mi è stato conferito. Io sono arci contento del tempo che ho trascorso in questa città, spero che sia stato apprezzato lo sforzo prodotto per fare qualcosa di utile a questa comunità che sicuramente sta attraversando un periodo un po' difficile. Ma sono sicuro che dopo le elezioni, al di là, faccio gli auguri ai due candidati, si possa trovare un percorso unitario e un'attenzione concentrata soprattutto sui problemi di questa città. Perché questa città ha bisogno di energie, di forze nuove, fresche, rinnovate per un percorso che sia così diversamente impostato e soprattutto teso a far sprigionare quelle che sono le evocazioni di questa città, le evocazioni del territorio. Ecco, si parla tanto di turismo, ecco bisogna fare di più, è stata fatta sicuramente molto in passato, ma in futuro bisogna fare ancora di più, far sì che la gente venga cariata e si trova benissimo, possa magari durante la giornata stare al mare nel periodo estivo e magari poi di sera così venire al centro storico, una cosa sicuramente bellissima, ti dà delle emozioni, delle vibrazioni sicuramente forse uniche. Io ho avuto modo, vivendo nel centro storico, ecco, di conoscere tutti i suoi vicoletti, i suoi sapori, i suoi profumi, conoscere la filosofia di questa città e porterò sempre nel mio cuore il ricordo di tante persone con cui mi sono fermato a parlare, a dialogare, ma soprattutto appunto della città. Sono grato, onorato degli attestati di simpatia, di cordialità che mi sono stati costantemente testimoniati. Ecco, questi attestati di stima, di affetto e di simpatia arrivano quando, dall'altra parte, certamente hanno ricevuto altrettanta simpatia, affetto e cordialità. E quindi non è altro che un ricambiare di questo sentimento e certamente sarà stato così. Voglio partire da quello che è stato il rapporto, anche perché da quello che si è sentito ultimamente in giro, insomma, pare che qualcuno con lei non è riuscito ad avere dei buoni rapporti. Mi riferisco alla parte politica. Tutto bene con tutti o con qualcuno, come dire, non si è riuscito ad avere un legame chiaro, trasparente, amichevole? Ma guardi, io ho lavorato costantemente con la porta aperta. Da me sono venute tutte le espressioni della società civile e locale, dell'associazionismo politico, sociale, culturale, sindacale. Sono venute tutti gli ex amministratori, sia di maggioranza che di minoranza. Ci siamo confrontati, abbiamo dialogato e quindi penso di aver fatto in pieno il mio dovere. Certamente in questa ricerca costante di soluzioni su problemi importanti per questa comunità, magari a volte il confronto si esacerba un po', magari il confronto diventa più serrato, più vivace, più aspro, ma sempre nel rispetto reciproco. Penso di aver rispettato tutti e di essere stato rispettato da tutti. Poi se magari qualche volta sarò stato sgarbato, sgradevole, ma non penso comunque, magari sono pronto a dare la mano e a prendere un caffè. La porta, ripeto, era aperta, sarà aperta in questi ultimi circa dieci giorni che ci avvicinano, appunto che mancano, alla data delle elezioni. Quindi sicuramente con qualcuno magari non ci siamo, c'è stato qualche equivoco, non ci siamo compresi, però ho sempre rispettato delle persone. E ovviamente, avendo rispettato tutti, chiedevo pure di essere rispettato. Penso che sia avvenuto. Spero che queste asperità, questo clima un po' avvelenato, praticamente, si possa svelenire dopo le elezioni e magari prenderci insieme un caffè maggioranza ed opposizione. I prefetti e il commissario e le casi specie sono al di sopra delle parti e hanno così come unico riferimento la bandiera italiana, bianca, rossa e verde. Non certamente i riferimenti partitici non mi interessano. Se qualcuno l'ha pensato diversamente, così sono rammaricato e lo dico con vivo ringrescimento e disappunto. Qualcuno l'ha pensato diversamente anche su qualche nomine che lei ha fatto, sempre sulla valutazione di qualità professionali? Ma guardi, io spero che maggioranza di opposizione, dopo le elezioni prossime, concentri le loro attenzioni sui problemi della città e su una migliore strutturazione dell'organico comunale. Che sicuramente è inadeguato a livello quantitativo, in alcuni settori magari anche a livello qualitativo. Se non c'è una buona macchina, parlo di apparato burocratico, però sarà difficile concretizzare, materializzare, realizzare tutto quello che magari ciascuno ha messo nel proprio programma. Io ho cercato di far funzionare la macchina. Penso di esserci riuscito anche in questo breve lasso di tempo per affrontare i tanti temi che stanno sul talpeto. Alcuni li abbiamo pure portati a conclusione, per altri abbiamo impostato la soluzione. Ma ovviamente lascio all'amministrazione democraticamente eletta di adottare tutte le decisioni che riterrà opportune. Questa è la democrazia. Può essere una diversità di veduti, di opinioni. Ma poi magari in consiglio comunale potrà esserci la sintesi di tutto e la scelta, l'individuazione delle soluzioni migliori per far sprigionare quella che è la vocazione fondamentale di questo territorio, la vocazione turistica. Ecco, sempre per finire nel tema dei chiarimenti, nei giorni scorsi sul web è circolato un atto dove si dimostrava il pagamento del suo soggiorno qui a Cariati, cosa abbastanza lecita. Anche qui sono state fatte delle polemiche ed è giusto che ci sia anche un chiarimento su questo perché ognuno ha voluto dare l'interpretazione che più, come dire, gli faceva comodo e più gli piaceva modellare nel modello più consono al suo pensiero. Ma è stato un modo per dimostrare la spesa o è stata messa quella fattura o, non lo so, atto comunale in giro sul web per dimostrare un'eccessiva spesa sostenuta da lei? Guardi, questo non glielo so dire perché sono cose gestionali e burocratiche di cui si occupa poi la struttura. Non lo so perché sono state messa, però ci tengo a chiarire che la spesa, a parte chiunque, poteva venire a chiedermelo e glielo avrei detto, insomma, figuriamoci. Per me legalità e trasparenza sono dei sostelli polari. Non era un segreto. Non era un segreto, era il segreto di Pulcinello. Quando sono arrivato ho chiesto alla ragioneria, a chi dirigeva la ragioneria, di così vedere come potessi soggiornare nei migliori dei modi, ma avevo posto delle condizioni sulla spesa di non superare l'importo complessivo per l'alloggio, per il vitto, di 50 euro complessivamente. E in quel contesto ha operato il direttore di ragioneria che ha individuato, anche perché io non conoscevo strutture... Quindi, permettimi, scusi, quello si trattava di vitto e alloggio, non solo di alloggio? Cioè, io avevo detto al direttore di individuare, anche perché venendo da un altro mondo, vivo a 600 km di distanza latina, non è che potevo conoscere le strutture alloggiative o i ristoranti dove potermi fermare. Quindi è stato il direttore che, nella sua autonomia, ovviamente sulla base delle indicazioni che avevo dato, dice ridurre al minimo la spesa. Quindi, complessivamente, era per dormire e per mangiare non più di 50 euro. E così è stato. Anche se avrebbe... Ci sono delle limitazioni imposte dall'alto, poteva scegliere anche meglio, per capire. No, guardi, non c'è alcuna limitazione. Io sono un prefetto, potevo scegliere pure di andarmene in un hotel quattro stelle di Rossano o qualche paese turistico vicino. Potevo ben farlo, praticamente. Anche perché era un rapporto diretto, comune con la struttura. Ho ritenuto di non farlo, anche perché ho sempre detto nella mia vita, mio padre, io sono figlio dei contadini, mi diceva sempre, con i soldi tuoi fai quel che vuoi. Quando sarai un uomo pubblico, ecco, devi stare attento a spendere i soldi della comunità. E questo è stato sempre qualcosa che ha martellato il mio cervello. Sono stato sempre molto attento che ho circa 20 gestioni commissariali. Ho retto tre prefetture, nessuno mai mi ha potuto accusare di buttare i soldi pubblici. Poi sfido chiunque a fare un soggiorno in Calabria con 50 euro al giorno, mangiare e dormire. Ecco, valutate voi, cari cittadini, se io sono costato a questa comunità. O cercate di ridurre ai minimi termini. Va bene. Allora, parliamo della comunità e delle spese, o meglio, delle azioni a favore della comunità cariatese. Che cosa è riuscito a portare a termine in questo breve periodo? Che cosa stava per portare a termine? Cosa troveranno i nuovi amministratori di azioni avviate da lei? Guardi, vorrei sintetizzare sicuramente l'adozione del bilancio di previsione per il corrente anno, il consuntivo che abbiamo così varato il 31, proprio qualche giorno, due o tre giorni fa. Poi l'attenzione massima e ha richiesto pure molta attenzione sia per la gestione del porto dopo gli arresti dell'8 gennaio. Io sono arrivato a mattina 8 gennaio, 8 gennaio di sera c'è stato l'arresto di chi, della persona che gestiva il porto. Abbiamo così, ci siamo immediatamente attivati e individuati una società di Corigliano per una gestione in via temporanea e provvisoria in attesa dell'espletamento del bando di garbe e l'individuazione della DIT che poi gestirà questo porto magari con una sorta di redditività e rimuneratività per il comune che non vive una situazione esaltante da un punto di vista economico-finanziario. Poi c'è il problema grosso del mercato ittico. La regione ha avviato la procedura per l'arrevoca del finanziamento perché la regione asserisce che questo mercato doveva essere aperto già in passato. Anche in questi giorni ci stiamo adoperando per trovare una soluzione con i pescatori soprattutto con le cooperative per individuare di comune accordo magari in extremis in zona cesarina al 95esimo una soluzione che scongiuri l'arrevoca del finanziamento. Certo l'apertura di quella struttura porterebbe una penale. Certamente perché trattandosi di fondi europei poi dovremmo restituire questi fondi quindi si innesterà tutta una procedura gravosa per l'Italia non solo per il comune che verse una situazione di dissesto. L'apertura sicuramente io la auspicherei se fosse possibile anche perché avremo una tracciabilità del prodotto ittico a tutela della salute della salute di chi appunto mangia pesce. Questa è una sua idea? Ma guardi è solo un auspicio poi come è giusto che sia in democrazia attuabile chi verrà dopo di me chi verrà dopo di me deciderà il meglio per l'utilizzo di quella struttura perché parecchi così non conoscendo le norme mi dicevano perché non si fa la riconversione si fa qualcos'altro che io sappio non si può fare perché erano fondi a specifiche destinazioni o si apre il mercato o bisogna restituire i soldi quindi procedura procedura di revoca poi se noi poi certo c'è un problema che mi è stato sottoposto cioè che i pescatori sembra che non si erano mai stato molto d'accordo diciamo le varie cooperative su questa costruzione e poi un altro elemento sopravvenuto è che quando è partito questa iniziativa così perlomeno si dice che magari ci fossero molti più pescatori adesso si sia ridotto diciamo il numero di questi che praticano appunto la pesca bene allora lei già nel corso di questa discussione ha accennato al turismo come elemento per portare in una fase di sviluppo l'economia cariatesa ha accennato al porto al mercato ittico non possiamo che non parlare del PSA vecchio piano regolatore generale meglio così conosciuto ecco questo poi in seguito a quando è successo per i fatti del gennaio scorso pare che diciamo l'iter di questo strumento si sia rallentato e che lei non ha preferito forse tenere un pochettino nel congelatore per quali motivi ma guardi a parte l'evento avverso che mi è capitato che mi ha fatto perdere sicuramente del tempo altrimenti avrei avuto magari la possibilità di mettere a un tavolo non in prossimità delle elezioni ma molto prima a un tavolo le varie espressioni del territorio sociali ed economiche per individuare magari avviare magari un percorso ecco di strutturazione di un PSA confacente alla vocazione di questo territorio purtroppo è una delle cose che avrei voluto perlomeno avviare non mi è stato possibile e quindi l'auspice è chi verrà dopo di me in un contesto di dialogo fecondo anche vivace e serrato ecco possa mettere mano al PSA perché è di fondamentale importanza certo bisognerà tenere conto dell'esistente e poi con le limature e gli aggiustamenti necessari appunto per valorizzare questa vocazione del territorio vocazione turistica avete uno splendido lungomare io quotidianamente così lo faccio a piedi perché mi dà una dimensione quasi paradisiaca andare avanti e indietro e penso che meriti ecco un'attenzione particolare soprattutto per richiamare villeggianti in un così molti più villeggianti che portino diciamo anche ricchezza al territorio e consentono alle tante attività di così di svilupparsi perché mi dicono che ci sono molte difficoltà a livello commerciale dopo la chiusura dell'ospedale che sicuramente è stata una botta tremenda per le attività del territorio è una forma di economia la presenza dell'ospedale ecco lei per il futuro politico di Cariati per l'indomani dell'11 giugno si aura dialogo anche se con un confronto serrato ma la campagna elettorale in corso lascerebbe intendere che un dialogo domani tra le parti potrebbe essere difficile per quelle che sono come dire gli scambi di simpatia che partono dai microfoni ma guardi l'abbiamo visto pure in una dimensione molto più lati il panorama nazionale molte volte durante la campagna elettorale ci sono tante parole magari così che escono dalla bocca magari però qualcuno non vuole purtroppo è così nelle piccole realtà magari bisognerebbe fermarsi prima il mio auspicio non sto seguendo la campagna elettorale non so che cosa sta avvenendo e che ci sia un confronto ma sui temi che impattano e riguardano il territorio confronto anche Aspro così severo anche scintillante per certi versi anche ustionante per certi versi però confronto tra persone che hanno a cuore le sorti di questa comunità che amano cariati altre cose non so dove portano e che tipo di benefici portano a questa comunità che ha tanto bisogno di essere amministrata amministrata saggiamente e equilibratamente io ricordo un burocratio latino e lo ricordo spesso a me stesso ma lo vorrei ricordare anche così rammentare a tutti coloro che sono impegnate nella campagna elettorale nella concordia le grandi cose crescono nella discordia anche le piccole vanno in rovina ecco dividersi su tutto delegittimarsi non porta da nessuna parte ecco porta solo allo sconquasso porta al sottosviluppo io penso che Cariati non se lo può più permettere Cariati ecco al di là del rapporto maggioranza opposizione deve guardare avanti con maggiore serenità con maggiore tranquillità e occorre che la politica attenzioni diciamo vivi sezioni quelli che sono i problemi della comunità lasciando da parte tutto il resto mi dispiace qualcuno mi dice che girano esposti anonimi che vanno sul piano personale colpiscono nella dignità nell'onorabilità le persone penso che la politica sia altro il mio auspicio veramente il mio desiderio più vivo ardente è che si parli di Cariati e dei problemi di Cariati si lasci tutto il resto perché il resto può essere solo barbarie può essere solo inciviltà che non porta appunto da nessuno parte io dico sempre quando tu agiti il fango e lo tiri in alto il rischio che è ricato poi su tutta la comunità non solo su chi lo sparge e anche il vendicello della menzogna della calunnia ecco lo dobbiamo mettere da parte ecco usiamo bene diceva diceva se ricorda Seneca il presente è l'unico tempo che viviamo impieghiamolo nel migliore dei modi pensando che questo territorio come l'intero pianeta ci è stato dato in prestito e noi lo dobbiamo conservare per le future generazioni per evitare un'ulteriore desertificazione demografica di questo territorio Cariati ha tanti suoi figli che sono in giro per l'Italia qualcuno non ha conosciuto quando ero a Perugia ho conosciuto tanti calabresi anche di Cariati che si sono fatti onori altrove ecco bisogna invertire questa tendenza bisogna far sì che i ragazzi rimangano sul territorio a dare il loro contributo alla crescita e allo sviluppo del territorio e quindi ha un benessere di carattere generale ecco lei si fermerà a Cariati fino all'11 giugno per riconsegnare le chiavi di questa sala alla sala del sindaco al nuovo sindaco ma guardi 10 voteremo l'11 sicuramente ci sarà la proclamazione degli eletti mi fermerò due o tre giorni per la consegna per i saluti perché ci tengo così a salutare anche personalmente le tante persone e spero di poterlo fare con tutta la politica chi vincerà chi perderà maggioranza opposizione mettendoci alle spalle ecco tutte le asperità precedenti pensando veramente a Cariati Cariati è una bellissima realtà io ho avuto modo di apprezzarla di gustarla ripeto i sapori capire la filosofia di questa gente che vuole appunto guardare al futuro con maggiore serenità e con maggiori prospettive di sviluppo vedere appunto la gente fermarsi a Cariati radicarsi mettere su famiglie e non espatriare e venire magari qualche giorno solo d'estate ecco il mio auspice veramente di cuore è che maggioranza opposizione dopo l'asperità della campagna elettorale dialogano dialoghino si confrontino seriamente pacatamente ecco avendo a cuore solo Cariati auguri vivissimi a tutta la comunità ecco quando l'11 giugno il nuovo sindaco verrà a prendere il posto a questa poltrona dove adesso è seduta lei se la sentirebbe di dire qui Cariati per come ha avuto modo di diciamo di inquadrare la situazione naturalmente già mi è stato detto dalla parte politica da dove partiranno da dove inizieranno lei cosa si sente di dire bisognerebbe partire da questo punto quale potrebbe essere il punto di partenza ma guardi sicuramente l'urbanistica è fondamentale perché poi con l'urbanistica tu disegni il futuro di questa di questa di questa città lavori pubblici direi di meno perché poi alla fine così questa città forse a volte troppo spesso manca di quotidianità e di ordinarietà cioè una città magari più pulita ecco avere l'illuminazione in tutte le strade che non c'è ancora e l'acqua che purtroppo è ancora un problema e lì si è prevista una soluzione perché a volte si indorbita manca spesso pure ieri sera purtroppo mancava l'acqua ecco questi temi quotidiani di ordinarietà quotidiana ecco secondo me vanno attenzionati pensare alle grandi cose va bene sicuramente va bene ma quelle che mancano per la verità non solo a Cariati in parecchie città quelle che mancano è l'ordinarietà la pulizia delle strade i rifiuti ecco che poi significa più spirito comunitario più più voglia di stare insieme più amore più più senso di identità e e di appartenenza perché dire amo Cariati non significa niente se poi non sei conseguente con fatti azioni e comportamenti ecco questo è fondamentale io penso che che poi dopo appunto le asperità della campagna elettorale che purtroppo portano a questa a conflittualità a volte troppo troppo accese e si scade magari molto volte nell'offesa ecco io spero che poi si trovi un comune sentire nell'interesse di Cariati ecco siamo alla fine quando lei preparerà la valigia per andare a casa cosa se ne porterà al ricordo per identificare questo suo passaggio questa sua esperienza a Cariati ma guardi è un patrimonio di affetti di emozioni di vibrazioni di sentimenti che mi porterò dietro la città l'ho vissuta perché io ricordo che quando ero prefetto di Cosenza uscì un articolo sulla stampa anzi ringrazio tutta la stampa che mi è stata molto vicina molto mi ha aiutato a portare all'esterno quelle che erano determinazioni e decisioni la stampa sia televisiva sia social sia quotidiani ecco ricordo quando ero a Cosenza un giornale se ricordo bene Gazzetta del Sud mi mise in prima pagina il prefetto podista ecco io sono stato podista è vero che poi sono caduto e mi sono creato un problema ecco sono stato podista il vostro lungomare l'ho consumato lo facevo ogni giorno e ho ripreso a rifarlo ogni giorno le vostre stradine ormai le conosco tutte ecco si respira un profumo un sapore un'aria tutta particolare e questo mi accompagnerà fino alla fine dei miei giorni grazie soprattutto per questa bella esperienza e testimonianza di Cariate che lei porterà in giro per l'Italia la ringrazio ancora per questo incontro e per il contributo che ha dato alla nostra comunità in questo breve periodo dirle arrivederci significherebbe come quando uno viene dimesso dall'ospedale dire arrivederci non si aura però certamente speriamo di incontrarci fuori solo per tornare magari a villeggiarci questo è un obiettivo che mi sono posto sicuramente tornerò da villeggiante perché ho avuto modo anche di apprezzare il vostro mare io all'inizio di maggio era appena tornato così dalla struttura dove facevo riabilitazione ho fatto un bagno con le stampelle era un giorno bellissimo l'acqua limpidissima ecco è stato un momento così che mi ha così dato grande sollievo e grande giovamento fisico-fisico grazie ancora grazie a voi 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 grazie a voi